Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Oggi vi vorrei consigliare un film che mi è capitato di rivedere dopo tanti anni. L'avevo visto a scuola, pensate un po', l'ho rivisto con curiosità anche perché insomma quello che sta succedendo nel mondo in questi ultimi tempi spinge anche a rivedere questi film. Sto parlando di Uomini Contro di Francesco Rosi del 1970, se non vado errato, ecco è un film particolare perché racconta la prima guerra mondiale, una parte della prima guerra mondiale, attraverso gli occhi dei soldati, dei soldati italiani che erano al fronte, che dovevano combattere e che però si chiedevano sempre per che cosa stanno combattendo. Ecco la psicologia degli esseri umani è indagata in questo film più che l'azione, infatti è un film che è costato poco, relativamente poco, fatto con pochi mezzi, fatto in un'ambientazione montana che richiama quella dei luoghi della prima guerra mondiale dove hanno combattuto gli italiani, ma quello che è interessante di questo film è la contrapposizione. Noi vediamo da un lato i soldati italiani, i soldati semplici, che sono spesso dei contadini e che vengono da tutte le parti d'Italia e che in un certo senso si rendono conto della tragedia della guerra, si rendono conto del fatto che la guerra porta soltanto morte e distruzione e anche se alcuni di loro sono andati in guerra con convinzione all'inizio, pensavano che fosse qualcosa di interessante come esperienza personale, come riscatto dell'Italia, come spinti magari dal senso nazionalista. Ecco c'è da una parte ci sono questi soldati, dicevo dall'altra ci sono i comandi di questi soldati che invece vivono in un mondo parallelo. Innanzitutto evitano ovviamente di stare troppo sulla linea del fronte per ovvi motivi, ma hanno in testa un'idea della guerra che è completamente fuori dalla realtà e a mio modesto parere anche ancorata a una visione della guerra precedente. La prima guerra mondiale rappresenta una novità nel campo della guerra, dei conflitti perché è una guerra di posizione, è una guerra che si combatte sulle montagne e quindi i mezzi sì ci sono, possono arrivare, ma con molta difficoltà. È una guerra che non si combatte su un campo di battaglia sullo stile napoleonico in cui c'erano questi eserciti che se la davano di santa ragione e poi chi vinceva vinceva. In realtà non è così, è una guerra di posizione logorante che dura, che dura, non finisce come immaginavano all'inizio, durerà qualche settimana giù di lì, e invece dura per molto tempo, dura per molto tempo con un prezzo a livello di vite umane altissimo. Perché? Perché è una guerra in cui questi soldati devono uscire dalle trincee, buttarsi letteralmente di fronte al nemico spazzati via, al 99% dei casi spazzati via, e quindi per conquistare semplicemente qualche metro di territorio. Quindi è una guerra che in un certo senso non hanno nemmeno capito chi comandava questi eserciti, non l'ha capita fino in fondo. I soldati non l'hanno capita perché pensavano di stare a combattere qualcosa di diverso, che poi si è rivelato invece l'opposto di quello che pensavano, ma è stata una guerra che ha, diciamo così, colpito profondamente l'opinione pubblica anche per il numero elevatissimo di vittime. Parliamo di milioni di soldati uccisi, soprattutto per l'impero asburgico, austro-ungarico, per la Germania, anche per l'Italia. Non ha avuto milioni di morti, ma arriviamo quasi al milione. Quindi una guerra di logoramento, di distruzione totale, un massacro, senza contare poi le conseguenze successive a questa guerra, inutilati, tutto questo poi porterà ovviamente al dopoguerra italiano, a quello che sappiamo, che la storia ci racconta. Però ecco, quello che è interessante di questo film è proprio la contrapposizione tra gli uomini, non a caso si chiama uomini contro. Certo, il film di tanto in tanto fa capire la sua vena anarchica, la sua vena, diciamo così, proiettata contro il potere. C'è anche questo, questi soldati che si ribellano al potere, soprattutto la scena così rappresentata da Gian Maria Volonte che, appunto, anziché rivolgersi al nemico che è di fronte, dice il vero nemico è alle nostre spalle. Ecco, c'è anche questo, un po' di questo aspetto didascalico che era un po' comune al tempo, tant'è vero che però il film poi fu così boicottato, fu boicottato dalle alte gerarchie dell'esercito, fu boicottato anche dal governo, italiano, gli fu impedito di essere proiettato in Italia perché dava un'immagine dell'esercito italiano, dava un'immagine dell'esercito italiano in guerra, la prima guerra mondiale ancora fresca come guerra e ne dava un'immagine negativa, cioè di generali incapaci, inetti, se non addirittura fuori di testa che mandavano a morire questi soldati italiani, questi giovani, senza una ragione e io penso, dopo aver letto alcuni testi di storia, che effettivamente questa analisi impietosa dei comandi militari italiani può essere, diciamo così, accettata fino a un certo punto perché effettivamente, diciamo così, se non ci fosse stato il colpo anche di fortuna finale, noi la prima guerra mondiale l'avremmo persa naturalmente, poi come succede sempre in Italia, si inizia la guerra da un lato, si finisce dall'altro, ma il punto è che l'Italia era comandata a livello militare da generali, da persone influenti che però erano incapaci di tradurre poi sul campo delle strategie efficaci, naturalmente non tutti ma una buona parte di essi, la cosa incredibile è che questa parte di questi che hanno ridotto l'Italia in quel modo, facendo morire centinaia di migliaia di giovani, hanno anche oggi ancora delle strade o delle stazioni intitolate al loro nome, pensate un po' a che cosa siamo arrivati. Comunque è un film interessante, un film da rivedere, un film anche forte e che però secondo me dà molto bene il senso, è girato con una, diciamo, anche maestria registrica e riesce a evocare bene l'ambiente sul fronte, l'ambiente delle trincee, l'ambiente anche degli ospedali militari e soprattutto poi di come si ha la sensazione che il, diciamo così, l'esercito italiano anziché combattere il nemico volesse combattere i soldati stessi italiani che non tardava a punire per diserzione. Ogni cosa era interpretata come diserzione quindi veniva dato il tribunale militare se non addirittura, quindi carcere militare se non addirittura la pena di morte per tradimento o diserzione. Quindi siamo a livelli davvero incredibili. Uomini Contro, film molto interessante che vi consiglio di vedere. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, e seguitelo anche sui social. Grazie.